Cosa ricorda di quel periodo? Tante cose. Quando quello è solo da piagna. Non ce la faccio. Non ce la faccio per quello che è passato. Sotto le miniere di carbone. Solo per quattro soldi. Non ce la fa trattenere le lacrime. Antonio Lattanzio era poco più di un ragazzino quando lavorava in una delle miniere di carbone in Belgio. Oggi, 63 anni fa, la tragedia di Marcinelle del Bois de Casier era il 1956. Persero la vita 262 minatori, 136 italiani, 60 abruzzesi. Il comune di Manopello, paese della Val Pescara che più di tutti ha pagato il tributo di sangue ricorda gli uomini che trovarono la morte nella miniera in fiamme. Solo in 12 riuscirono a salvarsi. Si originò un incendio causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. Il sito di Bois de Casier, ora, fa parte del patrimonio storico dell'UNESCO per non dimenticare. Le condizioni lavorative di allora nelle miniere erano disumane e per quella tragedia, per quel disastro, pagò una sola persona. Il presidente dell'associazione Marcinelle, per non dimenticare, Davide Iezzi. Ricordiamo che c'erano anche le donne, le ragazze addirittura che lavoravano nei pressi della miniera. Voi adesso scoprite una targa in memoria di una ragazza di Manopello di 16 anni che è morta in una miniera. Qual è la sua storia? Allora, Antonia Dastolfo nacque a Manopello nel 1879. Il suo destino giovanile, lavorativo per l'epoca, è quello di lavorare come appoggio ai minatori nelle miniere di asfalto della Maiella. Fino a quando arrivò il 10 ottobre 1895, quando Antonia fu colpita da un masso e lei fu colpita da questo masso e morì sul colpo. Sempre presente ogni anno la signora Maria, vedova di Marcinella. Come si lavorava in miniera? Male, lui non mi raccontavo perché avevo paura di farmi male. Però la sera prima che lui morisse, stavamo cenando e mi disse Maria, se succederebbe qualcosa in miniera, io sono sicura di salvarmi perché stiamo facendo un pozzo nuovo. Io scappo dall'altra parte e mi salvo. E di fatto lì l'hanno trovata, però il muro non era aperto e rimasto bloccato. Una vicenda che ha colpito da sempre il presidente della regione, Marco Marsilio. Infatti anche da piccolo vedevo tante volte le targhe del Belgio che venivano d'estate, i lavoratori, gli emigranti che venivano poi a passare le vacanze nelle loro vecchie case. E quindi questa storia l'ho conosciuta sin da piccolo, mi ha sempre molto colpito e devo dire mi colpiva al contrario quando a Roma invece questa storia era pressoché sconosciuta. Fino a quando la data della tragedia di Marsinelle è diventata dal 2001 la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano del mondo. Come ci ricorda il vice sindaco di Manoppello di Bartolomeo. Deve essere la giornata del ricordo, del ricordo della sicurezza del lavoro e soprattutto del ricordo dell'emigrazione. Noi stiamo vivendo ancora oggi la tragedia della sicurezza sul lavoro e stiamo vivendo sia l'emigrazione dei giovani in cerca di lavoro e sia l'immigrazione di chi cerca lavoro purtroppo in Italia.